Le politiche del 25 settembre sono andate ormai in archivio e la Lega del Bassanese si interroga sui motivi della debacle che ha portato il carroccio a perdere in una roccaforte come Bassano ben 19 punti percentuali sulle elezioni del 2020. In Casa Lega c'è chi fa autocritica. C'è da fare molto, c'è soprattutto da riconquistare quei voti che sono andati da altre parti. Il perché ci sono tanti perché, ci possono essere tante motivazioni, ma il partito è un partito sano che deve solo fermarsi un attimo, riflettere, parlarsi tranquillamente e ricominciare. Ormai è chiaro che fra le cause che hanno portato al tracollo della Lega in alcune zone c'è la mancata risposta ai problemi dei cittadini riguardo l'Ulss 7 e Pedemontana, ma in generale sembra essere venuto meno, quel rapporto stretto fa la politica e il territorio. L'unica cosa da fare è intercettare il malcontento e capire come mai l'elettorato in questo momento non ha dato fiducia alla compagine della Lega e ricominciare da lì per essere presenti alle prossime tornate elettorali con programmi, idee e persone che rappresentino il nostro territorio e che diano le risposte che le persone si aspettano.